Ciao a tutti ragazzi, sono Saviultras90 e oggi sono tornato con questo nuovo episodio della serie Over Me, l'episodio 10, sono arrivato a 10 episodi e oggi diciamo è un un commentario, un Over Me un po' speciale, dato che sto facendo un'altra modalità che è QG, cioè sto facendo Moshpit Chaos in realtà a differenza di tutti gli altri episodi che avevo fatto in gli attività squadre Comunque sto giocando con Kingkiller, Generoman, Watang, Sek e Lollo Crash Ora loro non mi sentono perché ho spento il microfono, aspettate, forse, aspettate un secondo che forse è meglio che li tolgo pure la voce perché mi danno un po' di fastidio Marda, oh esplosa la macchina accanto a me ma non mi ha fatto niente Ma però non devono conquistare il QG Ok è uno Non è niente Aspettate che lo aspettiamo qui Lo aspettiamo bello bello, fiero fiero E lo prendiamo Ma comunque questo qua, vedete È lo spot che vi dicevo nell'altro video che davvero No No, 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 no Merda Ok è il salitore ucciso, perfetto Vedete Vabbè non è popo camper, raga Cioè sto comunque difendendo il QG Porco cane No No No, ne mancavano pochi ai cani Vabbè comunque c'è l'odd star, raga Allora vediamo un po' Infatti vediamo che dicono, dai Anche perché Aspettate Ok ma andiamo in l'odd star Si comincia Si comincia a punare, ragazzi Nel live Questo qua sarà il loro spawn perché Ci sono io nell'altro Quindi vediamo un po' Che sta facendo Vai, 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 vai Le cuffie mi si stanno scaricando Quindi andassero a cagare Merda, merda Uh In extremis Salvataggio in extremis Non ne trovo manco più Oh no no Eccoli, eccoli Volevo fare una bella doppia Che non è uscita Vediamo un po' Speriamo che non si scaricano le cuffie Perché davvero Non sarebbe una cosa bella Aspettate Oh, ti revi davanti alle palle Oh Aspettate un attimo Per il carico Uno mi sta cecchinando Eh Non volevo passare da qui Ma lo devo fare Eh che devo fare Aspettate un attimo Aspettate merda Non voglio andare Perché se no Mi uccidono Scusate però Merda Andiamo un attimo Qui sopra Cazzo Scusate raga Se ho bestemmiato Cioè ho detto Non ho bestemmiato Ho detto cazzo però Cazzo Non posso dire cazzo Merda Era Un'altra opportunità Per fare Un Un Lodestar Che però Non è riuscito Non sono riuscito a farlo Eh Si sono scaricate Mi sono scaricate Le cuffie Merda Ora me le sono Un attimo Levate Perché Se no Non ci sento Una Ceppa Merda Merda Dove sono i nemici Uno qui sopra L'ho visto da radar E' davvero fondamentale Per me Il radar Ragazzi Merda E mentre ricarico Ovviamente Lui viene 45-3 Se prendevo Di nuovo Il Lodestar Oppure prendevo Cani Eh Ma come ha fatto Connessionato Beh che c'ho tre tacche Ragazzi Non c'ho il massimo Eh ma questi qui Non devono conquistare Raga Eh io sto pure conquistando Perché se no finisce Presto la partita Io voglio fare Un buon risultato Merda Non devono conquistare No no Non va bene Meglio Allora glielo facciamo Conquista veloce veloce Dai raga Se no Qui finisce subito La partita E il mio 100 più in live Non lo faccio più Dov'è Era ora Qui sul radar Eh merda È sempre lui Che mi uccide Raga Di nuovo a poco Dall'Odstar E muoio sempre lì Vabbè Non fa niente Dai Ma vabbè Lug E vabbè Che ci posso fa Però io c'ho tre Ah ora quattro Però Anche io non sono mica lost Oh Vabbè Qui dentro Ne avevo visto un altro qui Oh E dai però Non me li ho rubati Tutti Ma da dove escono Da dove escono Raga Ma come fa Ad avere 4500 punti A stare sopra di me Se ha fatto 20 kill meno Beh forse L'avrà conquistato Tutte lui Ecco Oh ma non muore Questo qui sarà Lost sicuro È impossibile È lost sicuramente Eh vabbè Vedi Vedi Stanno conquistato Tut Ecco E lo aspetto pure Peccato ragazzi L'ombra è meglio Cioè 59 Nuovi Peccato Perché Ora finirà La partita Perché Come i deficienti Stanno conquistando Io neanche posso parlare Perché le cuffie Li sono scaricate Che Che dobbiamo fa Non devono Conquistare Porco cane Porco cane Ora Ora sono iniziato Un po' a morire Un po' di Volt Annone Anche Andiamo ora Che Sono nello spawn nemico Questo butta A chi butta la bouncing betes Metto un attimo qui sopra Questo cosa c'ha fantasma Non l'ho visto sul raro Sto con lo smoo Saranno di nuovo spawnati qui Ovviamente non muore neanche uno E ovviamente Eccolo lui da dietro col coltello E conquistano pure, vero i miei compagni Dai però non dovete conquistare Che ora finisce Ma sono proprio stupidi Dai però, ecco Come ora finisce Dai però, come si fa ad essere così stupidi Cioè, fare QG E poi farla finì subito Cioè non Boh So io che la penso diversamente dagli altri Boh Beh un'occasione buonissima Per fare un risultato epico E loro ovviamente me lo Me la distruggono Questa opportunità Cioè Questo fa che se la camper Sì che l'obiettivo è vincere Però siccome li stiamo stracciando Fare una buona partita Non fa male a nessuno Cioè fare un buon risultato Più che amo Cos'è lo vogliono prendere di nuovo Perfetta Drone Che vita Eh sì lo stanno conquistando di nuovo Ma non è possibile raga Eh ma come si fa ad essere così Speriamo che i nemici li uccidano un po' Però Siccome li sto Devastando Per loro è un po' difficile ovviamente Ma siccome noi siamo stupidi Vabbè Non fa niente da E' andato Non posso far manco un Un buonissimo risultato E questo qui però Li uccide appena viene conquistato il QG E ora ovviamente si resta un Un minuto qui E se non ve lo finirà La partita Ma come si fa ad essere così raga Ma l'ho crash Ma superato Cioè hai fatto 20 G's in in più Oh No almeno voglio farlo C'è un po' più Che cazzo Da dietro Oh è sempre da dietro Prima col coltello Ora Ma no No Li odio sti sponi Oh guardate Mi ha sponato dietro Poi mi ha superato E l'ho ucciso Andiamo Andiamo Pesate che ce n'è uno qui Che ora muore Eccolo Mambo Mambo Ce n'era una lì Pro Voglio Sponimo Eccolo Dai è finita Che palle ragazzi Davvero Davvero Una stupidata Abbiamo fatto una stupidata Non si può Non si possono fare questi errori Cioè a mio parere Perché Ecco lo lasciamo lo stampo No Non è servito a molto Vabbè ragazzi Comunque Penso 93-18 Un buon risultato Sono arrivato primo E comunque questo qui era l'obiettivo Non ho peccato Per il 100 più Però vabbè ragazzi Comunque la partita è finita Anche quindi Questo episodio di Avermi Io Vi ringrazio Comunque Del vostro supporto Che mi state dando In questo In questi giorni In questo periodo E niente Al prossimo video Bella Ciao